io non lo tengo più ah non lo tengo mica più io non se lo faccio più portavo a fare la passeggiata eh? Rocco fatti vedere, su, Rocco si ma forse l'ha riconosciuta eh? chi c'è? chi c'è? non so si, ho detto mamma missa ah vuoi dalla mamma ciao bello ma me lo trova bellissimo bellissimo eh? Nino vieni qui, su chi è mamma missa? chi è mamma missa? coltos chi è mamma missa? chi è mamma missa? mamma missa bravo Rocco, bravo mamma mia è grosso ma mangiale big basti Nino, su oh, Rocco si ma penso che può lasciarlo credo che non si fidate ma non è abituato qui eh no ma dico ah beh ti non è abituato buttati tutto magari mamma mia chi è mamma missa? chi è mamma missa? mamma missa, io bravo bravo stai parlando in Slovenia sì parlando in Slovenia con lui quando vede le persone che non corrono si alza in piedi ha il coraggio di buttarsi di là del cancello è più alto del cancello oh ma ci credo che è più alto del cancello dai è venuto anche bene vicino papà vicino papà grazie